Alessandro Ferrari, presidente di App Industria Giovani Verona, per le interviste sostenibili. L'ultimo libro che hai letto? La storia di Steve Jobs. E la tua passione più grande è? Costruire. Partiamo da quello che è il tuo punto di vista. Secondo te oggi essere azienda che cosa significa? Per essere azienda è fondamentale essere team. Nel senso che mentre in passato le aziende erano costituite, portate avanti da un leader, da un padre padrone, adesso è fondamentale per potersi approcciare anche ai mercati esteri e poter competere nei mercati esteri e far parte di un team. Qual è il rapporto tra l'azienda che rappresenti e la natura e l'ambiente che ti circonda o ci circonda? Il rapporto devo dire che è piuttosto buono nel senso che siamo attenti sia nella fase produttiva sia nella fase realizzativa nel diminuire gli scarti, gli sfridi che quindi possono produrre a parte un aumento dei costi ma anche un aumento di materiale di riciclo. Come tu ben sai stiamo affrontando un momento un po' di sfida, chiamiamolo, no? Quindi secondo te quali sono le aziende che in questo momento di sfida sono riuscite ad andare contro tendenza? La mia impressione personale è che le aziende che in questo momento comunque stanno crescendo nonostante il mercato non sia particolarmente favorevole sono quelle che nel momento in cui è iniziata la crisi per alcuni settori già dal 2008 hanno comunque continuato a investire nella formazione del personale e nell'innovazione. Visto che oggi sei qui in rappresentanza di quella che è l'imprenditoria giovanile, secondo te come dovrebbe essere il modo di cercare di fare impresa però guardando alle generazioni future? Io vedo un'imprenditorialità giovanile molto fertile, molto preparata e secondo me questo sarebbe il momento di fare anche un passettino in più e vedere di essere un po' più propositivi scalzando magari quelle vecchie dinamiche, quelle vecchie metodologie che sono quelle tra l'altro che ci hanno portato a questo momento storico poco felice e quindi esorterei tutti quanti i giovani imprenditori come me a fare un passetto in avanti e proporre le iniziative che hanno nel cassetto. La natura ci insegna che tutte le specie collaborano tra di loro per arrivare ad un obiettivo comune. Tu credi che a livello imprenditoriale l'imprenditoria giovanile riuscirà ad operare in questa ottica oppure è difficile? Io penso che l'imprenditoria giovanile sia già con un piede in questo tipo di mentalità. Lo si vede il proliferare di tutte quelle attività imprenditoriali molto vicine alla natura e quindi allo sviluppo aziendale pertinente al contesto in cui si vive. Ti faccio un esempio, ho un amico che ha aperto un'azienda che realizza le borse attraverso il riciclo delle camere d'aria dei trattori. Ecco, e questo è un business, no? E quindi alla luce di quello che ci siamo detti, delle tue idee, dei tuoi pensieri, secondo te cos'è la vera innovazione? Per me la vera innovazione è cambiare destinazione d'uso ad un prodotto che è stato già inventato con una specifica utilità. Cercando di essere concreti, vuol dire prendere un materiale che è stato ideato, che ne so, per fare un vestito e lo stesso materiale un domani lo possiamo utilizzare per fare un qualsiasi altra cosa che non sia direttamente correlata al fare il vestito. Questa per me è innovazione. La vera innovazione è saper riutilizzare, quindi anche questo è Green Economy. Bene, e invece per quanto riguarda la comunicazione, viviamo nell'era comunque del 2.0 dove la comunicazione realmente può differenziare un'azienda dai suoi competitors. Secondo te quale dovrebbe essere il giusto approccio a livello comunicazionale verso un'economia sostenibile, verso la Green Economy o comunque un modo di fare comunicazione che sia veramente orientato verso la sostenibilità? Io penso che il canale migliore per poter comunicare la sostenibilità è sicuramente internet e quindi tutti i processi inerenti alla Blue Economy e alla Green Economy secondo me dovrebbero essere manifestati attraverso internet semplicemente comunicando con trasparenza quello che è il processo produttivo in azienda. Quindi la sostenibilità in una parola è? Possibile. Molto bene, allora ringraziamo Alessandro Ferrari e ci vedremo alla prossima puntata per le interviste sostenibili. Ciao Alessandro. Ciao e grazie. Alessandro Ferrari e ci vediamo alla prossima puntata per le interviste sostenibilità. Ciao Alessandro Ferrari e ci vediamo alla prossima puntata per le interviste sostenibilità. Ciao Alessandro Ferrari e ci vediamo alla prossima puntata per le interviste sostenibilità.